ed eccoci qui signori al centocinquantesimo episodio mamma mia che emozione ragazzi che emozioni e partiamo da qui partiamo dallo spawn chunk questa farm comunque continua ad andare abbastanza bene tra l'altro è cambiata non so se ve l'ho fatta vedere negli scorsi episodi però sì l'ho cambiata un po' l'ho tipo aggiornata ecco vedi guarda qua che casino questo mondo è stato oggetto anche di molte modifiche a livello interno intendo perché è stato generato nel 2017 con la 1.12.2 quindi stiamo parlando di veramente tanti tanti aggiornamenti fa il mondo sponava con un sacco di biomi tutti quanti azzeccati tra di loro infatti vedete cioè qua c'è c'è veramente un cambiamento tra un blocco e l'altro un altro poco cioè qui c'è la giungla di qua c'è la palude di qua c'è una parte veramente molto fredda vi lascio immaginare il casino che creava effettivamente spostarsi da un posto all'altro ora da qui bisogna andare verso nord cioè se volete iniziare ad esplorare tutto quanto io penso che il download ve lo lascio proprio partendo da lì con le litre e tutto quanto sperando che resti tutto nell'inventario del player vabbè casomai se volete andare in creativa potete farlo tranquillamente potete girare tutti i posti che volete però diciamo che bisogna andare verso nord qui troviamo la prima città che iniziai a fare appunto nel 2017 con i primi episodi e tutto quanto ecco pure questa città ha subito tantissimissime modifiche che ancora stiamo facendo ancora stiamo apportando non mi piaceva tantissimo come era fatto prima l'intero villaggio però qui c'era un villaggio c'era un villaggio che chi ha seguito la serie sin dall'inizio sa di che cosa sto parlando ecco vi invito anche a riguardare l'intera serie dall'inizio sono 150 episodi però alla fine non sono tantissimi effettivamente sì questo è il primo villaggio che adesso è l'ultimo villaggio che stiamo portando avanti praticamente molto molto aggiornato vedete c'è veramente un sacco di modifiche un sacco di cose anche se questo è cioè c'è tanto veramente tanto da fare questo è un rimasuglio questo pezzo qui di ciò che avevo fatto tanto 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 tempo fa e toglierò anche questo perché sì bisognerà lavorare un botto qui in questa zona di qua c'è un altro progetto un progetto veramente molto ambizioso molto bello mi sono sempre divertito nel portarlo avanti ed è il progetto della zona agricola zona rurale non so come la vogliamo chiamare però è una zona che come vedete è un pochino distante dalla città è una città sappiamo bene che oltre ad avere questa anche una zona dove ci sono i contadini dove ci sono i poveri se così possiamo dire anche questo è un posto che ha subito veramente un sacco di modifiche tant'è che qua sotto ci sono i rimasugli di una città che avevo iniziato a fare tanto tanto tempo fa sempre nel 2017 se non ero tra il 2017 e il 2018 ovvero edoras che comunque non aveva tantissimo senso perché edoras è una città che conquista sopra una montagna ovviamente come avete visto è stata coperta è stata coperta perché non mi è piaciuta tantissimo nel corso del tempo anche perché poi ci sono state un sacco di aggiornamenti che sono usciti insomma un sacco di roba che mi ha permesso di rilavorare su ciò che stavo già facendo zona che è stata lavorata anche più a nord a livello di landscaping perché qui c'è tutta una zona che ho terraformato io ho fatto apposta per dare una bella veduta da tutti i punti di vista infatti se ci spostiamo di qua possiamo notare quanto sia bella sta montagna e quanto non sia una montagna di minecraft di qui c'è una costruzione cioè prima di spostarci da quest'altro lato perché poi qua vedete ci sono altre cose qui c'è una costruzione che ho fatto pure di recente a sto punto ve la faccio vedere perché sta qua questa si ispira ad un gioco che mi ha veramente stregato ed è Elden Ring penso si sia capito anche perché questa è una costruzione che si vede proprio ad inizio game ed è dove tu salvi praticamente la tua partita e infatti ci sono un sacco di citazioni cioè quando arrivi qui trovi anche il tizio qui davanti al fuoco e praticamente al centro diciamo di questa chiesa che era anche il salvataggio minecraft è anche questo no? cioè i mondi personali di minecraft sono anche continue citazioni dell'artista stesso no? ecco parlando di Elden Ring anche questa roba qui si ispira ad Elden Ring solo che questa ha un'utilità questa è una farm in sostanza una farm che sta sottoterra sta sotto questo pezzo qui e che mi permette di fare picture pod e torch flowers qua sotto c'è praticamente una farm aspetta vi faccio vedere una farm di sti tizi qui non fateci caso al fatto che ci sono delle parti di pianura veramente lisce così sapete bene che sono pezzi che devono essere poi portati avanti nel corso del tempo qui c'è una strada quindi se volete proseguire ecco strada facendo da un posto all'altro qui c'è anche una strada salite a nord vedete la zona rurale la città e verso est vicino la chiesa di Elden Ring potete trovare questa stradina che ho fatto un po' custom anche perché ci sono degli alberi appunto custom da ste parti che vi porta direttamente nella nuova zona questa non ricordo quando l'ho fatta però sì è più recente rispetto a tante altre cose è una zona che si ispira ad un altro gioco un altro gioco che mi è piaciuto veramente tanto tra l'altro l'ho finito da poco cioè l'ho ripreso da poco e l'ho finito da poco quindi c'è assurdo il fatto che questo mondo mi appartiene veramente tanto perché è una continua roba di esperienze che ho avuto nel tempo ecco quindi sì questo si ispira a Kingdom Come Deliverance infatti le case sono proprio super ispirate a quel gioco queste credo siano un pochino più realistiche rispetto alle altre che abbiamo visto e niente quindi questa è un'altra zona veramente molto carina molto bella che potrei portare avanti ancora effettivamente e qui c'è un castello c'è un castello che vabbè è inutile che lo andiamo a vedere vedetevelo voi con il world of load se non lo conoscete arrivate fin qui salite questa strada che qui c'è proprio la strada sua e ve lo andate a vedere tranquillissimamente qui ce n'è un altro di castellino cioè diciamo che questa è una fortezzina ed è molto molto bella cioè sta fortezza veramente ne vado molto fiero è piccola però è strapina di dettagli c'è anche il ponte elevatoio c'è la guardia qui davanti se entri dentro c'è anche la sala centrale ci sono tutti i riferimenti tutte cose al medievale e anche al fantasy è tutto per questa zona qui perché adesso dobbiamo spostarci dobbiamo spostarci pure di tanto ho iniziato poi a costruire cose nel corso del tempo lontane da qui perché ho iniziato ad allontanarmi ho iniziato a generare nuove parti del mondo tra l'altro per questo mondo è cambiato anche il seed ho voluto anche cambiare proprio la generazione del mondo stesso adesso mi genera praticamente i biome versione large in modo che siano un pochino più realistici e infatti mi piace tantissimo questa cosa e penso che non la cambierò più detto questo comunque adesso un consiglio che vi do se volete esplorare proprio tutto ragazzi prendete il portale del Nether che sta qui perché contiene tutte le città e tutte le zone che ho fatto in un'unica strada e con anche cartelli come vedete sponate in questo punto ok se aprite la mappa e avete la mod diciamo della mappa vi potete aiutare meglio però bene o male se non avete mod varie potete tranquillamente seguire tutti i cartelli che ho messo apposta ad esempio qui ho messo il big albero ho messo la mushroom island la zona egizia e la zona western infatti di qua si va verso sud mentre di qua si va verso nord e ci sono anche le farm poi tra l'altro qui c'è la zona paludosa il portale del land il mangrove biome le icepikes tutte zone che appunto servono adesso vi faccio vedere la zona paludosa perché è una delle zone che ho fatto subito dopo tutte le zone centrali a cui stavo lavorando appunto nel 2017 cioè è una delle prime zone che ho fatto subito dopo mi sono spostato verso nord ho trovato una palude bella grandicella e ho voluto lavorare lì che pure è stata oggetto di molte modifiche però sono abbastanza soddisfatto di quello che ne è uscito fuori perché è piaciuto molto nel corso degli anni veramente tanto 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 sto posto purtroppo prese fuoco una casa infatti non so se poi l'ho messa a posto eccola qui vabbè andrebbe sistemata non ci vuole tanto effettivamente perché sono pochi blocchi che hanno preso fuoco fortunatamente a questa ci ho lavorato veramente tanto effettivamente ecco qua lì ci sono ancora i pezzi di fuoco dannazione perché in questo mondo noi non abbiamo lo spread del fuoco l'avevo attivato non mi ricordo per cosa però non c'è lo spread del fuoco quindi potete stare tranquilli non prende fuoco nient'altro perché ci sono i camini quelli vecchi quelli che si facevano una volta senza il campfire però sì questa è la zona paludosa l'ho fatta tanto tempo fa ed è molto molto dettagliata infatti mi piace tantissimo il fatto che sia sull'acqua si ispira a Ponte Lago Lungo del Signore degli Anelli precisamente l'Hobbit tutti i pilastri si vanno ad appoggiare sott'acqua qui ci ho messo veramente un sacco di tempo pure per portarla avanti la farei diversamente ora come ora perché poi comunque nel corso del tempo cambiano un sacco di cose ragazzi ti lascio la farm di slime inutile che ci vado cioè è una farm semplicissima ti devi mettere là sopra carichi e fai slime questa andatevela a vedere con calma cioè girate con calma tutto questo posto cioè il progetto iniziare era quello di metterci anche dei villager che potessero camminare tranquillamente per tutte le casette e diciamo che è andata così ritorniamo nel nether perché adesso andiamo a vedere dato che ci siamo vicini qua ci sono delle zone che utilizzo solo per raccogliere blocchi qua c'è la mangrovia e di qua c'è l'icepikes dove vado a prendere appunto i blocchi freddi il blocco di ghiaccio quelle robe lì insomma però senza allontanarci troppo andiamo al land portal perché qui dobbiamo vedere due cose due cose molto molto carine la prima è questa praticamente atmosfera questa scenografia che ho creato tutta attorno al portale ed è veramente fighissima questa si ispira sempre un po' al signore dei anelli all'hobbit precisamente come vedete penso si capisca cioè qui ci sono proprio delle statue di nani con la barba lunghissima che si estende fino al nulla fino al basso fino a un punto dove non si riesce nemmeno a vedere più perché c'è la foschia foschia creata da me tra l'altro con i blocchi di vetro però è una figata è una figata ragazzi un casino per farlo sto end portal ragazzi perché poi comunque ho dovuto togliere le cose che stanno intorno all'end portal non vi dico per togliere quello centrale quanto ci ho messo che finivo sempre nel portale però alla fine poi ci sono riuscito tramite dei glitch diciamo di minecraft riesci ad eliminare le cose che gli stanno intorno veramente molto bella nel land andiamoci un attimo dato che ci troviamo perché l'end pure è stato tirato giù completamente ci lavorerò probabilmente tra non molto ho ucciso un bordello di draghi per generare tutti questi portali e ho distrutto l'intera isola perché qui ci voglio fare appunto una bella costruzione poi lì ci sono delle farm però vabbè è utile che ve le faccio vedere ritorniamo nel portale un'altra zona che adesso andiamo a vedere è la zona del big albero l'ho chiamata così però vabbè dovrebbe avere un nome tutto suo prima o poi tra l'altro guardate che figata per questa roba qui ci ho impiegato un episodio intero tutta una zona fatta da me che praticamente puoi raggiungere sotto l'albero ispirata alle caves quelle nuove fatte di dripstone e tutto quanto e ho voluto dare una mia diciamo interpretazione delle dripstone caves a differenza di quelle che già notiamo in giro che comunque sono carine comunque questa è la zona del big albero l'idea era quella di creare una roba molto molto fantasy su un'isola tra l'altro infatti siamo ad est più o meno a sud est dalla zona centrale non siamo proprio distanti tanto 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 però in questa zona qui mi volevo allontanare veramente tanto da tutti i contesti medievale e tutto quanto e volevo creare una roba un pochino più non lo so fiabesca infatti c'è quest'albero gigantesco veramente molto molto grande con anche delle casette intorno casette che purtroppo non hanno interni solo alcune poi ci sono dei ponti delle robe cioè veramente molto figa pure questa zona vedete c'ha queste casette che sono quasi un po' case hobbit un po' si vanno a mescolare con la natura che c'è intorno vedete e sono molto fighe ecco questa per esempio l'ho fatta cioè come interno l'ho fatta veramente molto carina qua c'è pure una salita che potete effettivamente prendere se volete raggiungere le parti più alte parti più alte che poi non ho portato tantissimo avanti infatti c'erano tanti tanti progetti però poi è un attimino accantonati molto bella molto bella come zona mi piace veramente tanto qua per esempio con il legno di pale come caspita si chiama il legno vabbè avete capito quello là bianco possono uscire delle robe simpatiche sapete io comunque vi ripeto ragazzi entrate nel nether e prendete tutte queste strade se volete vedere proprio tutto a questo punto dato che ci troviamo andiamo verso la farm di moss che ha un castello annisso questo castello ha avuto un successo pazzesco è infatti è una delle ultime costruzioni che ho fatto veramente se non la penultima sì credo sia la penultima costruzione grande che ho fatto ed è una figata cioè veramente sto castello mi piace tantissimissimo non vedo l'ora di rimetterci mano devo mettere il ponte devo mettere altri interni però raga c'è sto castello veramente l'ho sfumato tantissimo ed è una delle costruzioni più recenti infatti c'è un sacco di dettagli e un sacco di cose che sono presenti negli ultimi aggiornamenti di minecraft ha anche un'utilità cioè io qui posso prendere il moss semplicemente attivando questa leva anzi vi faccio vedere già che mi ci trovo attivo questa leva si attiva la farm e da questo pozzo escono i blocchi di moss infatti se attendete veramente pochissimo vedete cioè vengono generati i blocchi di moss e arrivano qui arrivano direttamente da qua la farm vabbè sta sotto terra nascosta anche perché è grandicella e raga cioè è una figata cioè tu entri qui guarda quanta roba quindi dopo il castello bianco e la farm di moss spostiamoci sempre a sud e vediamo zona egizia ragazzi zona egizia questa zona è piaciuta pure tantissimo a tantissime persone si spona qua sotto come vedete basta uscire da questa parte e ti ritrovi praticamente in una zona ispirata ad Assassin's Creed Origins l'atmosfera penso che la dia gli manca il cammello a questa zona qua bella 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 qui veramente ci ho impiegato un sacco di tempo a creare questa atmosfera sporca di terreno sporco che finisce poi in acqua di là ho creato un faro che cioè questo è proprio il faro che trovi in Assassin's Creed Origins anche le barche sono ispirate al gioco mi ricordo entravo apposta nel gioco per fare gli screenshots e portare costruzioni avanti tra sfumature e tutto tutto il resto guardate che casino non è facile per quanto riguarda gli interni abbastanza complicato però bene o male riuscivi a creare qualcosa c'è pure il tizio seduto però ho dimenticato proprio di questo guarda bellissimo torniamo nel nether perché poi alla fine non c'è tanto da guardare in questa zona qui venite a farci un giro e vi godete un po' tutta la zona tra l'altro guardate questi sono i prototipi dei vasi quelli che poi hanno inserito dopo ora se non erro l'ultima zona da vedere per tutto il resto ci sono solo farm è la zona western una zona che ho veramente nel cuore per me è un periodo bellissimo a livello di film più che altro non storico perché a livello storico secondo me era molto brutto c'era anarchia c'era un sacco di roba aspetta 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 fammi tornare indietro perché ho bisogno di cibo qui c'è la farm di cibo meno male siamo vicini anarchia banditi casini vari però a livello cinematografico e approfitto per citare il grande Sergio Leone abbiamo avuto dei film veramente bellissimi con una regia italiana che ha fatto storia recuperate quei film anche se sono vecchi ve li consiglio perché sono dei film veramente pazzeschi comunque allora questa è la zona western il portale l'ho messo qui per ragioni di comodità infatti ci porta ad una delle ultime zone le quali ho lavorato e praticamente è la zona industriale però a tema western infatti Red Dead Redemption un gioco che ho amato alla follia è stato un punto di riferimento per portare avanti tutte queste costruzioni questo dovrebbe simulare un tubo non so se si nota si è una zona dove praticamente si creava mi ricordo il gasolio che cacchio era comunque si si prendevano robe molto nocive e che creavano anche dei laghi di schifo di roba che perdeva non lo so questo è il mio primissimo cioè dopo anni dopo anni magazzino magazzino serio cioè io ne ho avuto in passato di un magazzino però non era così serio che qua ci sono veramente tutti i blocchi a portata di mano ti sposti poco e alla fine riesci a raggiungere velocemente tutti i blocchi che ti servono c'è anche un piano di sopra che ho dedicato più che altro alle pozioni che comunque non utilizzo e alla zona ancients tra l'altro qui c'è anche una fornace automatica che io metto le cose qua dentro vengono cotte e poi arriverò qui in quest'altra chest una figata pazzesca può c'è un sacco di roba in pochissimo tempo una goduria infinita però spostiamoci da qui andiamo verso est qui c'è una costruzione tranquillissima un po' in diagonale devo dire che questa è una delle prime volte penso in cui ho approcciato al diagonale il diagonale non mi piace tanto devo essere sincero non mi è mai piaciuto infatti tutte le costruzioni che andremo a vedere lì sono tutte dritte sono tutte dritte adesso approccio al diagonale ma solo in alcuni casi qui c'è ci sono un sacco di terraforming un sacco di cose ah prima di andare aspetta 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 prima di andare in questo villaggetto andiamo nella zona dedicata a John Marston questa è praticamente la casa di John Marston ad ora io la rifarei più grande se devo essere sincero però è abbastanza tiny abbastanza tranquilla è praticamente la casa di John Marston rifatta infatti c'è anche il vecchio qua lo zio molto carina c'ha tutte le stanze però vi ripeto è molto piccola rispetto alle costruzioni che stiamo apportando adesso che stiamo facendo adesso qui ci sono tutte montagne di terraforming che ho fatto io e questa è un'altra zona veramente bellissima qui mi sono ispirato appunto ai film western mi sono ispirato a Tex storie western famose che sono state create nel corso degli anni ah nessuno l'aveva capito comunque questa è praticamente la costruzione di cui vi parlavo nello scorso episodio penso l'abbiate riconosciuta dicevo tutti i riferimenti ai film vecchi ai videogiochi Red Dead Redemption 1 anche 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 qui c'è una citazione molto carina intanto questa è un'altra zona che ho fatto a mano e ci ho impiegato veramente un botto di tempo però l'ho fatta in un unico episodio tutta questa zona qua tutta sta mesa questa è la interpretazione mia della mesa ve lo dico proprio sinceramente rispetto a quella che ci propone minecraft questa è una mesa fighissima e qui c'è la citazione a Breaking Bad vedi alla fine sono tutte tutte cose che io ho visto nel corso degli anni amato e ho voluto riportare in minecraft questa è la mia interpretazione del camion del del vegan di Breaking Bad è anche molto molto dettagliato se devo essere sincero c'è anche un interno vabbè quel che si riesce a fare degli interni di questi spazi così stretti molto bello ed è una citazione a Breaking Bad perché loro andavano a cucinare la metanfetamina in queste zone deserte dove non c'era nessuno praticamente poi qua vabbè c'è un treno che comunque richiama i treni di Red Dead Redemption vedete c'è anche il tipo che praticamente se tu stai a cavallo e cerchi di raggiungere questo treno c'è il tipo che ti urla contro e ti dice ehi non puoi stare qui vattene via e infatti loro stanno messi qui per difendere questo posto e niente quindi come avete potuto vedere le costruzioni che ho fatto in questo mondo sin dal 2017 non sono tantissime ho impiegato più tempo per aggiungere dettagli che a fare cose sono contento perché spesso si tende a fare le cose velocemente e a non dare un'importanza tale da poter gustare le costruzioni da vicino io ci tengo proprio minuziosamente e questa è anche una citazione al nome a mettere tutti i dettagli del caso che servono per rendere una zona figa una zona bella da vedere una zona da poter osservare da tutti i punti di vista cioè vedi io adesso vedo questa costruzione da lontano dico che figa però da vicino oppure molto figa perché c'ha i suoi interni è viva capisci è viva io ci ho sempre speso del tempo per fare le costruzioni vive niente ragazzi penso di aver finito io vi ho fatto vedere approssimativamente tutte le costruzioni che ho fatto però vi consiglio di venirvele a guardare ad osservare con calma io ora il download ve lo metto in descrizione più che altro vi metto un link per entrare su telegram nel mio canale ufficiale perché caricherò lì questo mondo solo per questo episodio qua poi se volete sempre tutti i download di ogni episodio che faccio tra l'altro lì c'è una costruzione eh sì qui c'è un'altra costruzione vabbè è una costruzione singola che sta per conto suo molto carina se fate la sub potete avere sempre tutto aggiornato tutte le mie mod tutto quanto io vi ringrazio ragazzi veramente per tutto il supporto dato in questi anni questo progetto è anche nato ve lo dico con sincerità in un periodo in cui non stavo tanto bene psicologicamente ecco non ero serino e minecraft è sempre stato una valvola di sfogo per ogni cosa e mi è sempre stato vicino niente ragazzi io vi ringrazio ancora alla prossima grazie a tutti